Grazie 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 Sì Un microfono per favore, grazie Eccomi Ivan Sei secondi Io voglio soltanto dire Che la diversità è bellezza Io ne ho fatto un'arte Ed è un valore aggiunto Per la società E soprattutto per la televisione Saluto Eleonora Io sono pazzo E anche Nunzia Grazie 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 a voi, grazie